Uno spettacolo come forma di riscatto per sottolineare che nonostante gli errori commessi in vita è possibile rigenerarsi con se stessi e la società e ricominciare da capo. E questo è il messaggio che lancia il figlio il prodigo, il nuovo musical realizzato dai detenuti del carcere di opera che in occasione del giubileo del carcerato sarà a Roma presso l'auditorium di via della conciliazione. Lo spettacolo è stato presentato a Palazzo Pirelli dal Presidente del Consiglio regionale Raffaele Cattaneo insieme al Presidente delle Commissioni Carcere e Antimafia Fabio Fanetti e Gian Antonio Girelli, il Direttore del Carcere di Opera Giacinto Siciliano e l'Assessore della Cultura Cristina Gappellini. Il Consiglio regionale sta sostenendo questo spettacolo, il figlio prodigo, come ha sostenuto altri spettacoli analoghi fatti in passato da questa compagnia che è nata in questi anni nel carcere di opera perché è davvero un esempio emblematico di come il carcere possa svolgere il proprio compito, quello che gli affida la Costituzione, che non è quello di tenere recluse delle persone perché non commettano altri reati, ma è quello di consentire loro di fare un percorso perché possano recuperare la loro dignità personale e anche le ragioni della convivenza civile. Il messaggio che emana è davvero autentico e merita di essere visto. Attraverso queste iniziative innanzitutto si vuole dare il ruolo al carcere di rieducare il detenuto, ma si vuole far entrare anche la società civile nel carcere per far capire che non è un luogo solo di reclusione, ma è un luogo che va aiutato ai fini della rieducazione del detenuto e ai fini dell'abbassamento della recidiva che oggi è al 60% a livello nazionale. Quindi con queste iniziative si vede anche con i pene alternative la recidiva si abbassa notevolmente e quindi per la società c'è un guadagno dal punto di vista umano, ma anche economico. Credo che lanciare dei messaggi di educazione e della legalità e mettere in condizioni chi ha sperimentato proprio il delinquere se ne è pentito e vuole dare un mando positivo sia di fondamentale importanza. Far capire a tutti, specie giovani, che la vita è fatta di scelte. È importante fare la scelta giusta, scegliere il bene rispetto al male. E meglio di chi ha fatto questo errore credo non ci sia nell'insegnarlo. Un progetto di valore che è nato tanti anni fa e che noi stiamo sviluppando progressivamente e che ci sta consentendo di raggiungere ottimi risultati, non solo con le persone che ci stanno lavorando dentro e che sono diventati dei veri professionisti, ma che hanno avuto anche occasione attraverso gli spettacoli e il lavoro, la fatica del lavoro, di avviare un percorso serio con se stessi, ma anche noi riteniamo rispetto al mondo esterno perché tutto questo ha un senso nella misura in cui noi riusciamo ad arrivare a chi sta dall'altra parte, ad abbassare le barriere, a far capire che il carcere ha un senso, che le persone sbagliano, pagano, possono cambiare, ma è necessario che qualcuno dall'altra parte aiuti questo percorso e sia disponibile per accogliere.